Oggi vi porto con me a comprare tutta la collezione di labello. Dopo aver visto tantissimi video ero curiosa di provarli anch'io. In negozio purtroppo ne ho trovati solo sette, quindi ho fatto un ordine sul sito di Tigotà perché volevo assolutamente provare anche quello alla mora. Io ho trovato anche due nuovi labello vegani, fatemi sapere se vogliamo provarli insieme in un video e quali vi incuriosiscono di più.